Sul rettangolo verde, gli occhi sono tutti puntati sugli olandesi dell'Ajax. Il Barça anonimo di quel periodo trova in Olanda la scintilla per riaccendere le proprie ambizioni. Alla corte blaugrana, a pro da prima Rino Smichels, e a un anno di distanza la stella Johan Cruyff, accolto come una rock star. Grazie per la visione!